Ha detto Chiaospica che si possa trovare una soluzione sull'argomento preferenze, però siccome i partiti si fanno in due, siccome in ogni istante è stato ribadito che questo patto può essere modificato con la condivisione delle due parti, laddove dovessimo trovare un accordo lo sottoscriveremo, ma al momento non c'è nessuna variazione rispetto all'accordo della Camera.